Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo questo sondaggio fatto da Euromedia Research per la trasmissione porta a porta di Bruno Vespa su RAI1, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Partiamo con il PD che guadagna l'1% e si porta al 20,5. Fratelli d'Italia perde lo 0,2 e scende al 19%. La Lega guadagna lo 0,5 e sale al 18,1. Il Movimento 5 Stelle è invariato al 16,2%. Forza Italia perde lo 0,1 ed è all'8%. Azione di Calenda perde lo 0,5 ed è al 4%. Italia Viva guadagna lo 0,2 ed è al 2,2%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti, arrivederci.